Benvenuti a questo match della fase a gironi della competizione. Ogni punto, ogni vittoria può essere importante per continuare il viaggio. È vero Pierluigi, mi sembra siano scese in campo con la giusta convinzione. È stato protagonista di alcune prestazioni eccellenti, davvero nelle ultime partite, la sua presenza in campo dà fiducia e stimolo ai compagni. Si comincia. Kodan. Krikowiak. Occhio all'uno contro uno. Kodan. Comodamente recupera il pallone. Palla che rimbalza sul giocatore, termina fuori. Vitolo. Contrasto riuscito, palla che rotola via. Tre Molinas. Palla in fallo laterale. Da lì può andare col cross. Si ripartirà con il corner. Arriva. Colpisce fuori. Non è riuscito a tenere la palla bassa. Ha vinto il duello fisico. Sempre molto pericoloso su calcio d'angolo. Kodan. È un brutto fallo, vediamo se l'arbitro prende provvedimenti. E' arrivato il cartellino giallo per lui. Sensazione che se lo aspettasse, Pier. Niente da fare. Il difensore recupera. Occhio, cerca l'area di rigore. Calcio di rigore che sembra indiscutibile. Calcio di rigore, vediamo il colore del cartellino. Giallo, giallo. Ammunizione ci sta tutta. Vediamo ora se concretizzeranno il calcio di rigore. Realizza il calcio di rigore. Non ha avuto problemi. Ha superato il portiere dal dischetto. Precisa conclusione. Il portiere non poteva farci nulla. Hanno aperto le barcature con questo gol. Uno a zero. Attenzione, potrebbe anche arrivare un cartellino. Arbitro, senza esitazioni, ha mostrato il cartellino giallo. Sì, molto vicino al rosso. Ottimo il tackle. Vediamo cosa decide l'arbitro. Non ci sono dubbi qui. Ammunizione. Ci sta tutta, ci sta tutta. Ci sta tutta. Ha riconquistato il pallone con un intervento ottimo. Ha spazio per tirare. E il pallone finisce il gol. Un errore terribile per il portiere. Pisa, attenzione imperdonabile, Pierre. Al limite del ridicolo. Hanno incrementato il vantaggio portandosi sul 2 a zero. Riesce a rimanere in piedi. C'è il triangolo. Grande tempismo da parte del difensore. Intervento spettacolare. Vitolo. Hanno interrotto l'azione avversaria recuperando palla a centrocampo. Lottano per conquistare il pallone. Coda. Magnifica chiusura difensiva. Artiglia bene il pallone. E dopo la fine della prima frazione, dunque, 2 a 0. Squadra che tornano negli spogliatoi. Ecco il calcio d'inizio del secondo tempo. E il pallone se ne va via. Aleix. Conquistano un buon pallone al centrocampo. Crikoviac. Giammeiro. Premia la corsa sulla fascia. Palla riconquistata con un'ottima chiusura. Vitolo. Vitolo. Si riparte col calcio d'angolo. Ecco qui il replay che ci permette di apprezzare il gol da un'altra angolazione. Occhio al volo. Ha alzato troppo qui la conclusione. E doveva pensare alla coordinazione nel momento decisivo. L'allenatore vuole cambiare qualcosa. Banega. Palla vagante adesso. Palla in out. Sarà corner. Il sorriso ironico. Conclusione che è finita larghissima. Si sorride anche lui. Si gargogna quasi. Banega. C'è un uomo a terra. Potrebbe essere un problema muscolare. Coda. La squadra avversaria riconquista il pallone. Buono il movimento. Palla al piede. C'è il traversone. Difensore fa su il pallone. Prova. Importa. Conclusione da cancellare. Coda. Attenzione. Palla ancora in gioco. Pericolo. Palla in out. Calcio d'angolo. Il calcio d'angolo. Comodamente controllato dal portiere. Occhio all'attacco dell'avversario. Perde il pallone. Pericolo. Occhio al tiro. Piveniamo tutta la sua rabbia per l'occasione mancata. Alto il valore di questo giocatore. Sappiamo che può e deve fare molto meglio. Palla vagante. Mancano tre minuti alla fine della partita. Mano del morale. Ecco il tiro. Grande riflesso. Palla in out. E dunque calcio d'angolo. Conclusione senza angolo questa. Conclusione senza angolo questa. Daniele Carrizzo. Daniel Carrizzo. 2-0 dunque. Fisico dell'arbitro. Questo è il risultato finale. È davvero tutto dunque il saluto da parte di Piero Gipardo. È stato la nava. È stato la nava.